Buongiorno, ciao ragazzi, ben ritrovati, come state? Allora, intanto un'informazione dei servizi. Oggi pomeriggio faremo la nostra solita diretta, la nostra Q&A, question and answer. Il mio inglese veramente è molto molto scarso, quindi potevo evitare, però vi do l'appuntamento, quindi ci vediamo oggi per passare insieme un'oretta di divertimento, di chiacchiera, di confronto, come nostro solito, non mancate assolutamente. E poi iniziamo a parlare, a trattare gli argomenti del giorno. Abbiamo alcune cose interessanti di cui discutere. Intanto partiamo dalla notizia della giornata, e cioè Federico Chiesa è arrivato a Torino, è arrivato al J Medical, è arrivato alla Continassa. Quindi Federico Chiesa sta facendo le visite mediche e inizierà a lavorare, non in gruppo, perché la Juventus in questo momento è in Germania. Chiesa è molto più indietro rispetto ai compagni dal punto di vista fisico, dato che rientra proprio oggi dalle ferie post-europei e ovviamente dal matrimonio, dato che mi pare domenica Federico Chiesa si è sposato. Il matrimonio di Chiesa diventa una tematica a seconda di calcio mercato. E voi direte, Luca hai bevuto di prima mattina? No, non è così, ma ve lo spiego. Ricordate le parole di Giuntoli, della conferenza stampa di presentazione di Tiago Motta, quando va a dire non ci sono giocatori sul mercato, sono tutti giocatori indispensabili, sono tutti giocatori fortissimi, ottimi ragazzi. Sì, ve lo ricorderete perché ne abbiamo parlato anche nel video di ieri. Apro e chiudo a parentesi, siete stati grandiosi, dato che ho visto che il video è stato visto tantissimo, quindi di questo vi ringrazio. Quindi Federico Chiesa, sposandosi domenica, ha evitato alla Juventus questo imbarazzo. Traduco, Federico Chiesa sarebbe poi salito sull'aereo per andare in Germania? Sì o no? Perché Cesni sta a casa e gli dicono, ma sì, hai qualche giorno nei ferri in più, fattele tranquillamente. Però Cesni, dato che è già stato acquistato di Gregorio, è molto palese che sia un giocatore in uscita, è un giocatore molto più anziano di Federico Chiesa, quindi ha un valore di mercato più basso. Non è quello il discorso, non è quello il punto. Significa semplicemente che Cesni sul mercato, la Juventus l'ha annunciato, Cesni ha trattato anche direttamente con dei club come quello dell'Arabia e sappiamo che la Juventus lo lascierebbe partire senza nessun tipo di problema, anche per una cifra ridotta contenuta. Federico Chiesa non è così, dato che è sempre al centro di questo intrigo di mercato. Che cosa fa? Rimane o se ne va? Vi dico la mia, per me se ne va, perché se non rinnova la Juventus è costretta a cederlo. Non ci sono mezze misure, non si può più giocare, dato che è in scadenza 2025. E dato che il rinnovo oggi mi sembra una strada non percorribile, Chiesa mi sembra destinato a partire. Sì, ma dove? Roma? E la Roma sta trattando Sule. E Sule è comunque partito, è andato in Germania, è al centro di questo intrigo di mercato. La Roma sta aspettando di capire se riuscirà a rilanciare alle condizioni volute dalla Juventus. La Juventus sembra non volersi muovere da questo discorso e aspetta, anzi ascolta anche le offerte dell'estero. C'è l'Eister che è sempre interessatissimo, la Juventus avrebbe già accettato l'offerta, ma Sule preferisce la Roma. Ma se questa offerta non arriva, poi Sule è costretto anche a ridimensionare un pochettino le sue idee. C'era il Napoli di Antonio Conte. Eh, quella secondo me rimane una strada molto percorribile per Federico Chiesa. Anzi, vi dico, secondo me alla fine andrà così. Io credo che alla fine Federico Chiesa andrà al Napoli. Questa è un po' la mia sensazione, ma non è una notizia. Ecco, sono soltanto ragionamenti, ipotesi, incastri che cerchiamo di fare tutti insieme. Anzi, sono curioso di sapere la vostra. Secondo voi dove va Federico Chiesa? Ripeto, per me Chiesa va al Napoli. Vedremo se sarà effettivamente così. Oppure c'è sempre l'estero, anche se in questo momento non se ne sta parlando tanto. Non ci sono tanti club particolarmente interessati a Federico Chiesa. Se secondo me lui preferirebbe un club di alta fascia, anche magari, ne so, della Premier League, piuttosto che qualche club più ricco ma minore. Quindi delle due immagino che possa preferire rimanere in Italia al Napoli con Antonio Conte in una piazza che si prepara a una sorta di resurrezione. Perché quando poi compri, anzi assumi Antonio Conte, scegli Antonio Conte, sai che vai in quella direzione lì di diventare una squadra che molto probabilmente andrà a lottare per le primissime posizioni in campionato. Quindi, non salendo sull'aereo, la Juventus si è evitata questo imbarazzo. Il giocatore non parte perché è sul mercato? Bene, allora le tue richieste saranno da abbassare, da ridimensionare. Poi lo sanno tutti, è il segreto di Pulcinella che Federico Chiesa e la Juventus siano in un momento non proprio di amore eterno. Anzi, il giocatore, ripeto, per me è destinato a partire. Però non averlo sull'aereo, non averlo in Germania è qualcosa che oggettivamente, se ci pensate, ha tolto questa sorta di imbarazzo giuntoli perché si sarebbe portato semplicemente un giocatore all'interno di questa tournée un giocatore che si sta cercando di piazzare. Ora, io non so le tempistiche con cui sapremo effettivamente il futuro di Chiesa o il futuro di Sule. Non lo posso sapere, non ne ho idea. Però iniziano ad essere due trattative o comunque due nomi molto, molto pesanti anche perché sono quelli che poi bloccano il mercato in entrata per gli esterni, per la Juve. E questa è la cosa più importante. Lasciando stare un attimo il calciomercato ma andando dentro la Juventus vera e propria beh, ieri è iniziato a circolare questa notizia secondo la quale la Juventus avrebbe trovato il nuovo main sponsor da mettere sulla maglia. Non abbiamo ancora notizie ufficiali a riguardo però abbiamo qualche indiscrezione e parlano di un accordo molto, molto, molto ben visto dal punto di vista economico. La Juventus sarebbe soddisfatta, altamente soddisfatta dal punto di vista economico e dal punto di vista del prestigio del marchio. Ovviamente questa è una notizia che oggi non può essere di dominio pubblico anzi sarebbe anche, siccome è sciocco e quasi da principianti fare uscire oggi il nome del main sponsor della Juventus fino a che non ci sono dei contratti firmati è giusto avere questa sorta di silenzio però probabilmente hanno fatto bene a presentare la maglia senza lo sponsor all'inizio per due motivi. Il primo, intanto mostri al mondo e guardate la Juventus non ha ancora trovato nessun tipo di accordo soddisfacente se siete disponibili potete mettercelo voi mi sembra un po' quando passate in macchina sulle strade e ci sono i cartelli con scritto questo spazio può essere tuo puoi metterci quello che ti pare l'importante è chiamare il numero e trovare l'accordo economico ecco questa è stata un po' l'idea che mi ha dato la maglia senza sponsor. In seconda battuta si erano rifiutati alcuni sponsor che non davano dal punto di vista economico una garanzia alla Juventus e che probabilmente anche dal punto di vista dell'impatto comunque del brand non erano soddisfacenti quindi presentare la maglia senza sponsor per me è stata un'ottima idea a maggior ragione adesso che dovrebbe essersi trovato lo sponsor la Juventus sembrava volenterosa ad iniziare il campionato senza e poi pensarci con calma a quanto pare qualcosina si è mosso nelle ultime ore e dovremo avere l'annuncio nei prossimi giorni ecco non so ancora bene le tempistiche anche qui però questo è quello che si legge per me la maglia senza sponsor è bellissima veramente meravigliosa infatti vi invito o no se ancora non l'avete acquistata a prenderla forse senza sponsor perché non so quante altre volte capiterà nuovamente una roba di questo tipo per fortuna adidas ha deciso di omaggiare tutti noi ragazzi della youtuber league con una delle maglie di adidas io ancora non ce l'ho materialmente perché la mia maglia è a Roma mi arriverà presto ve la mostrerò faremo anche un bel video dedicato in cui andrò a mostrarvi la maglia senza tipo di problema e per me quella senza sponsor è meravigliosa poi bisogna anche vedere che tipo di sponsor sarà perché io ho trovato su internet qualche ricostruzione non mi hanno convinto tantissimi quelli con degli sponsor catarioti e roba del genere non li apprezzerei tanto però ho trovato questa che secondo me è molto carina io sono veramente dipendente da Amazon tutti i giorni acquisto tutti i giorni compro quindi mi piacerebbe veramente tanto oltre ad essere comunque un colosso proprio della finanza e quindi in grado di pagare dei bei soldini e sarebbe anche secondo me molto bella sulla maglia della Juventus una collaborazione tra Juventus e Amazon la gradirei tantissimo anche se non credo che sarà Amazon il mio sponsor della Juventus però dal punto di vista anche dell'impatto che potrebbe generare o della chiacchiera che potrebbe generare Amazon mi piacerebbe veramente un sacco ripeto per me non sarà Amazon però questa ve la volevo mostrare perché tra quelle che ho trovato online mi è sembrata la più bella però a questo punto possiamo giocare un po' con la fantasia e quindi vi domando quale sarà lo sponsor della Juventus che azienda vi piacerebbe vedere unita ai colori della Juventus quale se potete sceglierne uno facciamo questo gioco potete sceglierne uno o comunque la vostra top 3 e me la fate sapere qui sotto nei commenti ripeto a me piacerebbe tanto Amazon perché secondo me è una delle frontiere di una generazione più più valide in assoluto quindi io voto Amazon se devo scegliere uno voto Amazon ma ripeto per me non sarà così signori questo è tutto abbiamo un po' giocato sul calcio mercato abbiamo un po' giocato con l'immaginazione l'atto sponsor della Juventus ora tocca a voi ci vediamo qui sotto nei commenti ma soprattutto ci vediamo oggi pomeriggio con la nostra solita diretta ciao